Controlli a tappeto anche sulle strade della Retino e scattano così le prime denunce. I controlli sono partiti dalle prime ore dall'attivazione delle misure da zona protetta. Molte le persone fermate e controllate dalle forze dell'ordine al fine di verificare il rispetto delle disposizioni che consentono gli spostamenti e la regolare applicazione dei dispositivi per contenere il contagio del coronavirus. In tutto dieci le persone sorprese dalle forze dell'ordine circolare liberamente sul territorio con autocertificazioni farlocche, ossia senza valide motivazioni. Tra questi anche un operaio quarantenne fermato e controllato alle tre di notte dai carabinieri nel comune di Terra Nuova Bracciolini. L'uomo aveva dichiarato di essere in transito per motivi lavorativi, ma l'azienda per la quale lavora a quell'ora di notte ovviamente era chiusa. Per lui e per tutti gli altri è scattata la denuncia. Gli spostamenti, ricordiamo, devono essere motivati attraverso l'autocertificazione da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Infine, nella tarda serata di martedì nel comune di Cortona, due titolari di un esercizio commerciale sono stati denunciati per inosservanza delle prescrizioni varate per contrastare la diffusione dell'epidemia poiché il locale è stato trovato ancora aperto dopo l'orario stabilito per la cessazione dell'attività. L'esercizio è stato immediatamente chiuso ed è stata avanzata al comune la proposta per l'applicazione della sospensione dell'attività.